L'architettura di per sé è come scrivere una storia. Per essere realizzata ha bisogno di una forte sinergia, una forte empatia tra progettista da un lato, cliente dall'altro. La caratteristica ovviamente è quella di un'architettura minimale, un'attenzione anche alla continuità delle linee molto precise. Siamo concentrati sull'inserimento di pochi elementi totalizzanti. Si sono presentate subito dei requisiti specifici, non è stato semplice trovare il prodotto giusto che potesse avere anche quella capacità di inserirsi in un contesto come questo, in delle grandi librerie. Tutto è stato possibile grazie alla visione del cliente ed ha capito che il suo ruolo non era solo quello di realizzare un nuovo studio professionale ma piuttosto di costruire un altro tassello nella storia dell'architettura di questa città.